ah 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 che disastro ma ora lo sistemo io 100 gradi riempito di sola acqua fa uscire il vapore che pulisce a fondo la tua casa fantastico senza detersivi la forza viva del vapore elimina quel diavolo di sporco da pavimenti vetri, spiastrelle, tappeti, moquet Un getto di vapore che pulisce tutto a sole 148.000 lire. Garantito da Fiseldam.